Ciao a tutti! Oggi, come potete vedere, abbiamo un nuovo Elastic Corpse Maxi Sights di Chica Boom Abbiamo questo gigante che fa da collezione con gli altri nostri giganti di Chica Boom Questo è grigio e facciamolo vedere Eccolo qua, riuscite a vederlo? È grigio, è un cicciottone Poi, è prodotto da Chica Boom C'è anche il QR Code E ci sono tutti gli altri modelli, tra cui abbiamo questo Questo qui E poi, tipo questi quattro E li dobbiamo comprare Dobbiamo comprare anche questi, giusto? Sì E questo ce l'abbiamo Fratello gemello Oro e argento E poi c'è lui Nel frattempo apriamo questo Perché siamo fratelli Sì sì, sono uguali uguali Vediamo un po' come Ecco Eccolo qui Sono fatti Pesano due chili Poi ci sono i piccoli Da 16 cm Mentre questi sono un po' più grossi E all'interno Troverete anche uno sconto Lo sconto Per acquistare sul sito di Chica Boom Queste sono le altre confezioni Di Nano Elastic Corpse E poi ci sono Tanti altri oggetti Che troverete sul sito di Chica Boom Nel frattempo Io l'ho schiacciato a terra E lui ci ha fatto Mattia adesso lo lancerà 1,2,3 Cerca di non cadere pure tu 1,2 E 3 Guardate come si è schiacciato Mattia l'ha buttato a terra E si è schiacciato Per questo video è tutto Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale Mattia è un po' imbronciato Perché voleva tutta la collezione completa Ecco Mattia è in scatola Questi sono i nostri Giganti Di Chica Boom Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un like Attivate la campanellina E ciao